Il disegno che sta emergendo anche leggendo i quotidiani e vedendo i servizi della televisione è di una presenza costante e continua di un orco indemoniato. E' incredulo Marco Granziero, direttore della comunità di accoglienza per minori La Fonte, davanti alle accuse formulate dalla procura della Repubblica di Trieste a carico di Ferdinando Cassago, il presidente della struttura che ha sede a Prosecco e che ora si trova agli arresti domiciliari nella sua casa di Cussignacco vicino a Udine e al quale vengono contestati i reati di maltrattamento e di abuso sessuale nei confronti di minori. Nonostante le numerose testimonianze raccolte nel corso delle indagini avviate nel 2017, il direttore non si capacita di quando e come il presidente possa aver messo in atto le azioni che gli inquirenti gli attribuiscono. Il presidente veniva qua un paio di volte a settimana, spesso a Trieste per i rapporti istituzionali o chiuso nel suo ufficio con riunioni e quant'altro. Quindi veramente il tempo che poteva avere per fare queste cose è irrisorio. Per cui sono sicuramente, se mai fossero, ripeto stiamo parlando di episodi anche del 2015, quindi nessuno, io non c'ero e non posso dire come sono andate le cose, ma conoscendolo e vedendo come si è comportato in questi ultimi due mesi, se mai sono episodi isolati in un contesto di assoluta serenità. Cassago non ha avuto alcun atteggiamento vessatorio nei confronti di chi che sia, prosegue Granziero, né con la trentina di minori o eventi disabili gravi ospitati dalla struttura, né con me né a quanto mi risulta con il personale, smettendo così alcune accuse formulate in particolare da ex dipendenti. A questo proposito il direttore lascia intendere, senza peraltro affermarlo chiaramente, che la vicenda possa trovare origine in una rivalsa nei confronti del presidente da parte di Taluni. Per i mesi che io sono qua, sono un paio, sono entrato in, ho preso la direzione il primo gennaio, episodi di questa gravità, neanche l'ombra, e siamo sconcertati proprio per tutto quello che il presidente in tutti questi anni ha fatto sia per i ragazzi che per i disabili.